Cristo. Ah Isaac, ma che mi convini? Il golf è un gioco di finezza, non di potenza. Il fondo è un po' come tutto nella vita. Il segreto è nel far lavorare il corpo con una lunga. Ci vuole una buona pressione di spalla perché il polso si fletta bene. E tieni gli occhi sulla palla. Questo ferro non mi piace, non va bene da me. Risparmiati le scuse, con tutto il rispetto per i tuoi bottegai, senza quei contratti, l'affare dei treni sfuga. E senza treni non c'è offerta d'asta, e senza l'offerta d'asta non c'è... Dave, com'è te lo chiamano ultimamente? Il mieve. Giusto, il mieve e il mieve. Sono stato chiaro. Se dico che chiuderò i contratti lo farò. Ehi, ehi, eccoci. Scusa, ciao bella. Sapendo un po' di spesa tu, sarei addirittura in attizio, davvero spiritosa. Oh brava, alla grande, vi lascio a tuo fratello. Sai quel cinese che hanno fatto fuori? Il figlio di Giulio? Eh, sì. Mi ha telefonato. Mi contirebbe di conto. La sera che fu.